Si è svolta alla Camera di Commercio la conferenza stampa per presentare la seconda edizione di Ravenna Future Lesson, un'occasione di apprendimento, scambio, scoperto e approfondimento, finalizzata a coinvolgere i giovani dai 18 ai 35 anni. L'evento viene proposto in tre giornate, dal 20 al 22 ottobre. Sono conferenze per i giovani, più o meno in età tra i 18 e i 35 anni, senza esclusione ovviamente di chi può avere qualche anno di più, su cinque argomenti tematici, innovazione e tecnologia, turismo e web 2.0, green economy e neoimpresa, cultura digitale e creatività, design e ambiente. Sono argomenti che normalmente in queste zone non vengono trattati, sono argomenti da politecnici, da master, da istituti di innovazione. Abbiamo voluto fare questo intervento con il contributo della Camera di Commercio in modo che sia possibile aumentare la presenza dei giovani nei processi di innovazione, perché per noi sono processi fondamentali anche per il lavoro che facciamo. Gli obiettivi sempre fissati sono ambiziosi. Crediamo che i giovani siano il nostro futuro, anche quando abbiamo qualche anno di più di loro. Pensiamo che da questo tipo di scelta passi anche la ripresa dell'economia nel nostro paese, oltre che in questi territori. Abbiamo una disoccupazione media in Italia che ormai arriva intorno al 30%. In queste zone abbiamo una forbice del 19,6% a Ravenna, del 24,6% nelle tre province romagnole. Crediamo che si possa fare un lavoro spingendo in questa direzione. Per esempio alla sera del 20 ottobre, le date sono 20, 21 e 22 ottobre, c'è un incontro tra giovani e policy makers urbani della città per discutere l'innovazione vissuta a 25 anni. Cioè è importante che si adotti una visione che parte da chi ha un'età dei giovani. Tant'è che abbiamo pubblicato un manifesto dove mettiamo la foto di Steve Jobs a 21 anni, il giorno che fondò l'Apple nel 1976. Michael Tossi per Ravenna Web TV Grazie. Grazie. Grazie.